Allora, buongiorno a tutti carissimi, sempre qui quasi in diretta dal Parco della Caffarella. Sono le 12.10 di lunedì mattina, oggi giornata veramente estiva qua a Roma, ci sono 29 gradi, quindi praticamente proprio maniche corte e quasi calzoncini corti. A me fa piacere perché comunque è meglio questo che la pioggia. E oggi volevo parlare un attimo dell'arte, visto che spesso mi occupo anche di dischi pop, un po' di quello che c'è dietro a tale cultura, ovvero l'arte dei graffiti, che so che non è molto amata da molti, perché i graffitari, così come li chiamano a Roma, sono considerati degli imbrattamuri, quindi deturpano lo scenario urbano, deturpano i mezzi pubblici, sconciano opere d'arte, monumenti e che dir si voglia. Allora, un attimino puntualizziamo tra vandalismo e arte. Allora, i graffiti chiaramente nascono negli Stati Uniti con la cultura hip hop e le prime avvisaglie sono negli anni settanta, specialmente a New York e poi a Los Angeles, i primi centri urbani importanti. Sono immortalati in un famosissimo film di Walter Hill, The Warriors, I guerrieri della notte, che è un grande film tra l'altro, uno dei migliori degli anni settanta perlomeno, un western urbano un po' anche ispirato, credo anche in parte a Sergio Leone, di Walter Hill. Ecco, lì si vedono appunto queste prime culture suburbani, giovanili, appunto che erano legati a, diciamo, da una derivazione della disco music, come avevo già spiegato nella storia dell'hip hop, e l'hip hop viene da certi DJ che poi alla fine provengono da certa discoteca anni settanta, quella più funk. Cosa praticamente, insomma, l'hip hop, oltre al disco prodotto, c'è anche una subcultura dietro. Almeno negli anni ottanta c'era sempre un Tortablist, e ancora si usa, il suonatore di giradischi, poi chiaramente i campioni che una volta erano tutti analogici, quindi presi da dischi preesistenti, proprio campionati da vinile a vinile, e non si pagavano dirette d'autore, quindi poi dopo ci fu anche una causa per mettere poi tutti i crediti, perché è della roba rubata. E poi c'erano un gruppo di ballerini, cosiddetti di breakdance, almeno negli anni ottanta andavano molto, adesso credo molto di meno, anzi penso non esistano proprio più, e poi chiaramente c'erano queste crew di writers che esprimevano in disegni di stampo chiaramente autodidatta, con delle loro tag, le tag sarebbero praticamente le firme dell'autore dei graffiti, e i primi a valorizzarli fu Andy Warhol con Basquiat e Kate Herring, che furono tra l'altro tra i primi artisti riconosciuti a livello mondiale proprio come artisti veri, tra l'altro a me Basquiat piace anche parecchio, andai anche a vedere un paio di sue mostre qui a Roma al Chiostro del Bramante, e lo consiglio caldamente. ecco, quella diciamo è la versione forse più culturalmente alta dei graffiti, però in realtà poi già quando andavo dal liceo io c'erano già 3-4 graffitari che chiaramente imbrattavano bene tutte le pareti della scuola e anche dell'aula stessa. questo parlo intorno all'85-86 circa, 84-85-86 eravamo ragazzini, però i miei amici armati di bombolette spray e di vernice spray, chiaramente, insomma, tutto mondo e paese, non è che sono nati adesso questi, esistono da circa 40 anni, quindi anche qua in Italia. chiaramente poi hanno avuto una diffusione capillare e suscitando anche diversi scandali e sdegno, soprattutto penso da una popolazione borghese medio alta, ben pensante, che vede queste cose come degli orrori, proprio delle cose orribili, eccetera. allora, io sono di questo parere, alcuni graffiti sono molto belli, chiaramente non li farei mai su Palazzo Farnese o sul Colosseo o, che so io, su qualsiasi altro monumento, che ne so, il Palazzo dei Dogi di Venezia, per esempio, sono delle cose che chiaramente vanno bene così come è stato, e forse Michelangelo, appunto, per Palazzo Farnese, aveva più estroartistico di un qualsiasi writer. Però, tipo, io penso, certe periferie romane, che sono abbastanza brutte, come il Tiburtino Terzo, brutte, ma no, perché, cioè, chi l'ha progettata andrebbe messo sulla sede elettrica, o Corviale, o, che so io, anche Torbella Monica, anche certi mezzi pubblici veramente oripilanti, secondo me, invece, i cosiddetti graffiti ci stanno abbastanza bene, nel senso che non deturpano affatto e, anzi, non solo abbelliscono lo scenario urbano, ma lo valorizzano e lo rendono anche più gradevole e più, più umanamente vivibile. Questo è il mio pensiero. Alcuni non sono assolutamente d'accordo, pensano che anche le cose fatte su un muro di cemento, francamente triste, va bene così com'è. Secondo me no, con un po' di colore ci sta bene e anche quando le vedo, tipo, non so, in certi mezzi pubblici qua a Roma che ancora girano scassati, non dico degli anni 70, ma alcuni veramente degli anni 90 che sono da rottamare, con quei tocchi di colore danno invece quel quid in più e sono quindi totalmente a favore. Quindi, assolutamente, per me è una forma d'arte, chiaramente, probabilmente non da intenditore, cioè, chiaramente sgarbi penso che non li potrà mai apprezzare, però cioè, chi se ne importa, nel senso non è da critico d'arte forse professionista, ma questo lascia il tempo che trova, quindi assolutamente a favore. E poi fanno parte poi di una cultura appunto suburbana, a loro modo punk, perché i graffiti poi stanno anche nella cultura punk, quindi è una forma di ribellione verso una società che non piace, che poi siano fatti magari da figli di papà, io questo non entro in merito perché non mi va di giudicare, però i graffiti sono nati come, appunto, come, alla fine come arte popolare, quindi ok, approvata in pieno.